Allora siamo pronti per ripartire, forza da pista Stiamo a categoria super proietti Abbiamo l'apprendimento, macchina numero 705 Novak Sivan E con 701 Hallander con la Alfa Romeo CT2 Stendiamo il set Pugissimo Rolli-Pornout Vediamo lo staff, i piloti che li fa rientrare Grazie Grazie a tutti per Alan E effettuiamo l'allineamento 9.22 10.03 Abbiamo un lato destro Gas del Robert con la Chevrolet Cavallo del 67 E lato sinistro con la 715 F3 Christian e... Giacomo 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 E Vediamo Cosa Piglia e si va all'allineamento e si va all'allineamento c'è un check nell'impianto tutto deve essere allineato per poter effettuare il cronometraggio ricordiamo sul lato sinistro siamo in categoria super pro eti grazie 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 ancora un attimo di pazienza Grazie. I tecnici stanno verificando che tutto sia allineato correttamente. Grazie.